Ciao caro Red, questo è un mio messaggio per farti sentire la mia vicinanza in questo tuo momento sicuramente non facile. Un messaggio accorato per l'amico di sempre, Robi Facchinetti, storico tastierista e cantante dei Poo, si rivolge a Red Canziana, ricoverato all'ospedale per una grave infezione che lo ha colpito nei giorni scorsi, a darne notizia alla statua l'altra sera allo stesso Canziana, attraverso un audio diffuso al Teatro Metropolitano Astra di San Donà, dove è andata in scena l'anteprima del suo Casanova Opera Pop, il musical al quale l'artista lavora da anni. Facchinetti si fa portavoce dei tantissimi messaggi di affetto ricevuti in queste ore. Sai, sto ricevendo veramente tante telefonate e messaggi di amici che mi chiedono di te e ti vogliono salutare con tanto tanto affetto. Mi raccomando Red, tira fuori tutte le tue energie, anche quelle nascoste, perché tu possa ritornare molto presto alla tua meravigliosa vita di sempre. Le condizioni di Red Canziana intanto stanno migliorando, ha lasciato la terapia intensiva del cafoncello ed è ora ricoverato in area non critica, ma la riabilitazione lo terrà ancora per un po' lontano dal pubblico e dal teatro. Fratellone, ti abbraccio, ti voglio bene. A prestissimo. Grazie.